meno due alle elezioni ecco come si voterà nei 38 comuni delle pesarese non solo pesero assegnati i lavori anche per il nuovo ospedale di cagli arriva l'attesa bonifica dell'amianto nelle quartiere pesarese di muraglia a fano un altro mese l'insegna delle gusto delle brodetto sporti loreto basket cede nella finalissima ma le chance promozione non sono finite una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi giovedì 6 giugno che apriamo occupandoci delle elezioni ormai imminenti mancano infatti appena due giorni alla chiamata alle urne dell'8 e 9 giugno in questo primo servizio cerchiamo di chiarire modalità meccanismi e regole delle elezioni amministrative nei 38 comuni della provincia di pesaro e urbino vediamo saranno 38 su 50 i comuni della provincia di pesaro urbino convocati sabato 8 e domenica 9 giugno ad eleggere nuovo sindaco e nuovo consiglio comunale le urne apriranno sabato alle 15 si chiuderanno alle 23 per poi riaprire alle 7 di domenica mattina e chiudersi in serata alle 23 subito dopo le 23 inizierà lo spoglio delle affiancate elezioni europee dalle 15 di lunedì 10 giugno via allo spoglio delle elezioni amministrative per le elezioni comunali cittadini chiamati al voto troveranno una scheda di colore azzurro con la disposizione di liste e coalizioni elencate dopo preventivo sorteggio pesaro fano e urbino sono i tre comuni in cui è prevista la possibilità di ballottaggio ovvero se un candidato sindaco non raggiunge la maggioranza assoluta dei voti ovvero il 50 per cento più uno delle preferenze si tornerà a votare per il ballottaggio fra i primi due classificati domenica 23 e lunedì 24 giugno non è previsto il ballottaggio in tutti gli altri comuni della provincia nei quali per essere sindaco sarà sufficiente avere il massimo delle preferenze sulle schede elettorali si potrà esprimere il voto sia un sindaco che ha una lista adesso collegata in alternativa si può votare anche solo la lista e il voto andrà automaticamente al sindaco collegato nei casi di pesaro fano urbino si può esprimere il voto disgiunto ovvero votare un candidato sindaco è una lista non collegata a questo il voto dell'elettore sarà dunque diviso tra la scelta del sindaco e quella dei consiglieri comunali per votare i consiglieri comunali l'elettore può anche esprimere due voti di preferenza scrivendo il cognome del candidato negli appositi spazi ma le due preferenze dovranno per forza riguardare candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda scelta per i comuni di popolazione inferiore ai 15 mila abitanti non sarà possibile esercitare il voto disgiunto pesaro e da questa elezione anche urbino in quanto capoluoghi di provincia eleggeranno 32 consiglieri comunali fano ne leggerà 24 valle foglia 16 mentre tutti gli altri comuni oscilleranno fra i 10 e i 12 consiglieri e lasciamo la politica e continuiamo a parlare di edilizia ospedaliera dopo l'assegnazione della progettazione dei lavori per il nuovo ospedale di pesaro che vi abbiamo annunciato nelle telegiornali di ieri è arrivato anche il via per il cantiere del nuovo ospedale di cagli settimana chiave per l'edilizia ospedaliera della provincia di pesaro urbino a stretto giro di posta dall'assegnazione dei lavori del nuovo ospedale di pesaro si avvia anche il cantiere per il nuovo presidio ospedaliero di cagli con l'assegnazione ufficiale dei lavori il nuovo ospedale e casa di comunità cagliese si svilupperà in un'area pianeggiante di 12 mila metri quadrati in località san lazzaro un intervento del valore di 15 milioni di euro che comprenderà un piano interrato e due piani fuori terra con 36 posti letto destinati alle cure intermedie e servizi dedicati all'emergenza urgenza territoriale è stato installato il cantiere che darà la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero e sanitario di questo importante centro del nostro introterra 15 milioni di euro per un presidio che è centrale nella valle del metauro e che è stato affidato ad una ditta tutta marchigiana che ha vinto la gara la ditta torelli e dottori di pramontana avanziamo così con l'edilizia sanitaria ospedaliera delle marche per recuperare il tempo perso nella tutela del diritto alla salute dei marchigiani una struttura importante sia per cagli ma per tutto il nostro territorio e continueremo a collaborare affinché all'interno di questa struttura vengano portati tutti i servizi necessari alla nostra comunità e dopo prolungate segnalazioni e solleciti è stata avviata finalmente la bonifica dell'amianto degli edifici della zona pesarese di muraglia che era già stato oggetto di più di una segnalazione mostrata anche su rossini tv dopo la promessa di impegno della proprietà dell'area di iniziare i lavori quanto prima è stato avviato il cantiere di bonifica atteso a lungo dai residenti della zona e le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono ad un incidente stradale avvenuto oggi a pesaro intorno alle 13 e 30 in prossimità delle semaforo di viaggio litte all'intersezione con via andrea costa per cause da a chiarire una donna alla guida di un'auto hyundai ha tamponato una giaguara grigia che nella violenza dell'impatto ha finito per capovolgersi su un fianco l'uomo alla guida è rimasto incastrato nell'abitacolo e sono intervenuti i vigili delle fuoco per liberarlo la polizia locale ha messo in sicurezza l'area ed è intervenuto il 118 per le persone coinvolte che hanno comunque rimediato delle ferite lievi e dopo le operazioni di pulizia dello scorso mese di aprile nel corso della quale furono raccolte oltre tre tonnellate di rifiuti marche multiservizi è tornata sulla spiaggia di frenzola di focara pesaro per ripulire un'area in cui continuano ad essere abbandonati rifiuti di vario genere l'operazione è stata predisposta in collaborazione con il quartiere 6 san bartolo marche multiservizi rinnova l'appello a non abbandonare i rifiuti fuori dagli appositi contenitori e ricorda che all'inizio della strada che porta alla spiaggia è collocata un'apposita batteria di bidoni e torniamo ora ad occuparci di politica perché dopo avervi presentato ieri la candidatura al secondo mandato della sindaca di pergola simona guidarelli ora andiamo a conoscere il suo sfidante si tratta di diego sabatucci e della sua lista pergola nelle cuore una campagna elettorale entusiasmante siamo andati abbiamo presentato la lista due settimane fa e abbiamo fatto il giro di tutte le frazioni della nostra città e c'è tanto entusiasmo intorno a pergola nel cuore pergola nel cuore è un progetto che nasce oltre 15 anni fa e ha già amministrato pergola per dieci anni dal 2009 al 2019 oggi vogliamo far ripartire pergola da quel progetto soprattutto per quanto riguarda la riqualificazione della città in tutte le sue zone e gli eventi eventi che portano economia alla città devono portare economia alla città eventi come la fiera nazionale del tartufo che nei due mandati di amministrazione di pergola nel cuore hanno creato un'economia per tutto il compensatore tutto il territorio anche oltre pergola questo è fondamentale lo facciamo con una squadra forte una squadra competente una squadra capace di affrontare questa importante sfida ognuno di loro infatti ha un ruolo ben definito da chi va dallo sport al sociale alla scuola all'imprenditoria e questa è la ricetta fondamentale per far ripartire pergola pergola è anche uno di quei comuni che in questo quinquenni è stato toccato dall'evento alluvionale c'è stata una ripartenza secondo il vostro punto di vista una ripartenza adeguata a quelle che erano le prospettive che ci si potevano attendere purtroppo no il governo ha stanziato molti fondi questi fondi non sono stati messi a terra pergola è stata colpita dall'alluvione soprattutto nel quartiere delle tinte un quanti è un quartiere storico bellissimo che riguarda il centro storico della città e questo è ancora e lì è rimasto tutto ancora com'è questi fondi non sono stati messi a terra c'è bisogno di rivedere il ponte c'è ci sono molte case che hanno delle difficoltà non possono non sono ancora agibili quindi c'è bisogno di mettere a terra quei fondi che governo e regione hanno stanziato ma che ancora purtroppo non sono stati utilizzati e si è conclusa con numeri assolutamente gratificanti la 22esima edizione delle brodetto feste ma il piatto principe della marineria fanese continuerà ad essere gustato per un mese attraverso la rassegna fuori brodetto è stato un evento davvero importante per la città perché per quattro giorni abbiamo avuto migliaia di presenze al lido i dati che abbiamo ci confermano l'impatto economico importante che ha questo festival il 22esimo tra l'altro senza presentare ancora delle rughe anzi sempre più vitale un festival che coinvolge tanti personaggi e tante aziende della città di fano sabato che forse è stata anche una delle giornate non la prima che dove il tempo ci ha favorito ma per esempio oltre 2300 brodetti serviti nello spazio brodetto bro 500 bambini nel lavoro detto in kids più di 300 persone in sulla sulla motonave a vedere a vedere il mare il come si pesca tutta l'attività marittima talmente tanto venuto bene talmente tanto importante ti lascio uno spoiler il prossimo anno la gara che anche quest'anno è stata importante gente che è venuta da tutta italia gente che è stata più di due giorni per assistere il vincitore un bellissimo gioco fatto anche tra chef tra chef anche veramente importanti prossimo anno non raddoppiamo ma decuplichiamo la gara perché vorremmo farne anche una a livello internazionale quindi non solo la gara nazionale ma internazionale la stiamo studiando e a breve poi avremo i primi le prime risultanze abbiamo dei numeri molto alti numeri molto importanti e questo ci dà sempre quella spinta in più per ricominciare da oggi anzi perché come dico sempre si lavora anche per i nostri ristoratori e da oggi fino al 30 giugno in oltre 20 ristoranti della città di fano si potranno gustare il brodetto e tante specialità della nostra cucina marinara in 20 ristoranti della città questo ci fa ci dà ancora la forza per continuare a proporre non solo un festival ma proponiamo una città le sue eccellenze la sua marineria e tutto il comparto adriatico al mondo intero perché a questo punto non possiamo non negare non possiamo negare che questo festival festival è diventato un festival internazionale inizia fuori il brodetto anche questo l'attività collaterale l'attività parallela dove i nostri ristoratori cominciano a preparare hanno messo già inserito a prezzi convenzionati e nei menu il il brodetto quindi prosegue per un altro oltre un mese la la questa attività e ieri sera a villa berloni si è tenuto l'atto conclusivo delle primo master di educazione finanziaria per imprenditori organizzato da banca di pesaro e dall'università di urbino vediamo com'è andata questa sera abbiamo atto all'atto finale del corso fatto sull'educazione finanziaria svolto in collaborazione in stretta collaborazione con l'università di urbino e quindi con i loro docenti e quest'anno stasera verranno premiati circa 50 imprenditori dalla banca di pesaro che hanno partecipato a questo importante evento è stato un momento veramente costruttivo dove abbiamo potuto affrontare i principali temi dell'educazione finanziaria l'atto imprenditori ma poi con gli ultimi argomenti abbiamo trattato anche l'atto delle imprese delle famiglie e soprattutto dell'analisi comportamentale fondamentale nella scelta finanziaria sia delle famiglie che delle imprese il percorso è stato molto partecipato e si è articolato in otto lezioni su svariati argomenti dalla fragilità finanziaria e l'impatto della cultura finanziaria sulle performance delle imprese alle fonti interne e fonti esterne di finanziamento, i bias cognitivi, il marketing e le innovazioni digitali questi sono alcuni degli argomenti che sono stati trattati e questa è la prima edizione di questo percorso ma noi contiamo in successive edizioni. Il corso di formazione organizzato da BCC è risultato veramente interessante perché ha affrontato argomenti anche innovativi e stimolanti per la gestione finanziaria dell'azienda ritengo che sia stato un'attività innovativa e molto propositiva nei confronti delle aziende di Pesaro che richiedono questo tipo di intervento. Noi crediamo anche nella formazione, non può che essere così oltre alla ricerca e stiamo portando avanti un discorso sia all'interno dell'Ateneo con gli studenti e le studentesse, il personale sia docente che tecnico amministrativo di sviluppare delle competenze trasversali, quindi sono un insieme di competenze che riguardano anche settori diversi nei quali uno si sente specializzato e tra queste competenze trasversali c'è l'educazione finanziaria, le competenze di natura finanziaria. Tutti noi pensiamo di essere capaci di arrivare a delle decisioni riguardo agli investimenti finanziari o scelte finanziarie più in generale quando invece spesso poi ci si trova a trovarsi in difficoltà perché magari le nostre scelte prese in modo così basandoci più su informazioni non scientifiche o a cui si è arrivati non per esempio in un dialogo con persone formate che sono già presenti all'interno della banca e anche questo dialogo avviene in maniera molto più proficua se la banca si confronta con imprenditori e famiglie che hanno livelli di competenze finanziarie più elevate. Il corso è stato apprezzato, confidiamo in delle nuove possibilità per chi non ha potuto partecipare in questa occasione, quindi vogliamo portare la cultura e tutto quello che è il sapere in ambito finanziario a favore della nostra clientela perché una banca del territorio deve anche svolgere questa missione diciamo sociale e di informazione. Manca poco più di una settimana alle vie della sessantesima mostra del cinema di Pesaro ieri vi avevamo dato notizia dell'intero programma della rassegna che questa sera commentiamo con il suo direttore organizzativo Cristian della Chiara. Questo festival che ci ha abituato, devo dire, negli ultimi anni a presenza di grande valore di grande celebrità e continuiamo su questa linea, il cinema italiano protagonista iniziamo con Sergio Castellitto, poi avremo la presenza di due star al femminile Jasmine Trinca e Valentina Lodovini e poi il grandissimo finale con Luca Guadagnino che torna a Pesaro da star conclamata qual è in questi giorni, proietteremo in piazza il suo ultimo film Challengers. Di Ficare Picone l'avevamo già detto, Franco Maresco e poi piano piano sveleremo tutte le altre sezioni del programma. E con Capitale della Cultura condividiamo anche altre progettualità, anche quelle le abbiamo appena annunciate il progetto Novi Bioscope, un gemellaggio con il festival di Sarajevo che prevede che diversi ragazzi di Sarajevo verranno qua a Pesaro a girare un film sulla nostra città che poi proietteremo a conclusione del festival anche noi saremo protagonisti della Korean Week, questo grande evento con ospite della cultura coreana il festival del cinema ha dedicato spesso attenzione al cinema dell'est e quest'anno recuperiamo una sezione dedicata al cinema coreano e anche uno sguardo al futuro perché Capitale della Cultura è anche coniugare la natura con la cultura, con la tecnologia e avremo una sezione in collaborazione con la casa delle tecnologie emergenti dedicata al cinema immersivo e alla realtà virtuale. E concludiamo il nostro telegiornale parlando di sport perché è andata male l'attesa finalissima di Serie B per il Loreto Basket e Pesaro che però ha ancora una possibilità per puntare al salto di categoria. Vediamo. Davanti ad un pala megabox che è gremito l'Ital Service Loreto Basket Pesaro dà tutto ma è la Virtus Roma ad aggiudicarsi gara 2 della finalissima di Serie B interregionale con i capitolini che vengono promossi in Serie B nazionale. Per i pesaresi svanisce il primo match point ma ora c'è un'altra possibilità di salto di categoria quella che passerà attraverso lo spareggio contro la vincente del derby siciliano fra Orlandina e Ragusa ora con la Serie sull'1-1. Loreto ci arriverà dopo un confronto con Roma in cui esce a testa alta. La Virtus prova a fuggire nel primo tempo ma i pesaresi inseguono restando incollati al match. Roma chiude la prima frazione avanti 34-21 e nel terzo quarto Pesaro riemerge chiudendo sul 46-45. Streno a lotta anche nel finale in cui alla sirena la spunta Roma 71-67. Sicuramente è stata una battaglia ma tanto ai play-off le partite sono tutte così, devi lottare fino alla fine. Comunque mi sento di fare i complimenti a Roma perché ha dimostrato che all'inizio dei play-in è rimasta un po' così sorpresa poi si è ricompattata e è arrivata a questi play-off in forma e molto carica. Sicuramente si meritano la vittoria. Noi ci abbiamo messo di tutto e di più però bisogna dire le cose come sono. Probabilmente è una squadra superiore a noi, inutile che ci nascondiamo. Sono magari più organizzati, sono più abituati a giocare certe partite, hanno anche un pubblico, un seguito importantissimo. Erano 3.600 nella prima partita, sono venuti in tanti a Pesaro, quindi probabilmente sono più abituati. È normale, sono la prima società di Roma e ci sta. Hanno giocatore fantastico come Welland, a noi probabilmente in questa fase ci manca forse un leader come Welland che nei momenti decisivi prendi in mano la squadra e la trascina. Ora lo spareggio contro una fra Orlandina e Ragusa, con gara 1 fissata il 12 giugno in trasferta, gara 2 il 16 giugno al Palamegabox, mentre l'eventuale gara 3 sempre in trasferta il 19 giugno. Pensiamo adesso al prossimo turno e dimentichiamo, facciamo che questa sia di esperienza per il prossimo round. Abbiamo la seconda possibilità, dobbiamo giocarci questa seconda finale contro Capodorlando-Ragusa, quindi abbiamo un'altra possibilità ancora di andare in Serie B nazionale. E allora in bocca al lupo alle Loreto Basket per questa ultima occasione per il salto di categoria. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Prima però di lasciarvi alle previsioni delle meteo, vi ricordo gli appuntamenti su Rossini TV. Questa sera alle ore 21.20 potremmo rivedere lo speciale televisivo dedicato alla fiera regionale del Riuso, della fiera che è organizzata dal Onlus Gulliver. E vi ricordo l'appuntamento di domani mattina in diretta come sempre alle ore 7.20. Saremo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook con Buonzorno Rossini. La rassegna stampa dei quotidiani locali domani mattina ci sarà il nostro Daniele Sacchi. Ed è davvero tutto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro un buon proseguimento di serata.